Oroscopo del giorno, domenica, 4 agosto 2024. Ariete. Amore. Giornata ideale per consolidare il rapporto di coppia con gesti semplici ma significativi. Lavoro. Nuove opportunità si presentano, ma richiedono decisioni rapide e precise. Toro. Amore. La comunicazione aperta sarà la chiave per risolvere malintesi con il partner. Lavoro. È il momento di focalizzarsi sui dettagli per portare a termine progetti importanti. Gemelli. Amore. Un incontro inaspettato potrebbe accendere la scintilla di un nuovo amore. Lavoro. La creatività sarà il tuo punto di forza, sfruttala per superare le sfide. Cancro. Amore. La tua sensibilità ti aiuterà a capire meglio le esigenze del partner. Lavoro. Collaborazioni fruttuose si prospettano all'orizzonte, non esitare a fare il primo passo. Leone. Amore. Giornata ideale per esprimere i tuoi sentimenti e rafforzare il legame con chi ami. Lavoro. Successi in arrivo grazie alla tua determinazione e al tuo impegno costante. Vergine. Amore. Prenditi del tempo per te stesso e riflettici sui tuoi desideri in amore. Lavoro. Organizzazione e pianificazione saranno le tue armi vincenti oggi. Bilancia. Amore. Amore. Un gesto romantico può ravvivare la passione nella tua relazione. Lavoro. La diplomazia ti aiuterà a risolvere i conflitti e a trovare soluzioni vincenti. Scorpione. Amore. La fiducia reciproca sarà fondamentale per superare eventuali ostacoli. Lavoro. Affronta le sfide con coraggio e determinazione, ne uscirai vittorioso. Sagittario. Amore. Una giornata serena ti permetterà di goderti momenti speciali con il partner. Lavoro. Nuovi progetti si delineano all'orizzonte, preparati ad accoglierli con entusiasmo. Capricorno. Amore. La tua dedizione verrà apprezzata dal partner, rafforzando il legame. Lavoro. Concentrati sugli obiettivi a lungo termine e pianifica le tue mosse future. Acquario. Amore. Lasciati guidare dal tuo istinto per vivere emozioni autentiche e profonde. Lavoro. Le tue idee innovative saranno ben accolte e ti porteranno vantaggi. Pesci. Amore. Una giornata di dolcezza e comprensione che rafforzerà il legame con il partner. Lavoro. La tua intuizione ti guiderà verso soluzioni efficaci ai problemi lavorativi. La tua intuizione ti guiderà verso soluzioni che rafforzerà il legame. La tua intuizione ti guiderà verso soluzioni che rafforzerà il legame.